Siamo con i relatori della 21esima assemblea di MPI Italia Chapter. Abbiamo avuto una importante giornata di formazione, partendo dai temi dell'etica e della trasparenza applicabili alla Meeting and Event Industry. In questa occasione vorrei chiedere ai nostri relatori, presentandovi uno per uno, quali sono le impressioni che hanno avuto come osservatori esterni. Iniziamo con Günther Heifer, fondatore di Terra Institute di Bressanone. Günther, la domanda che poi sarà uguale per anche gli altri colleghi è questa. Che cosa hai percepito, trascorrendo questa giornata con noi, partendo dai temi dell'etica e della trasparenza applicabili alla Meeting and Event Industry verso l'obiettivo del bene comune. Che cosa pensi, dal tuo punto di vista, della tua esperienza? Secondo me ogni congresso ha tante persone che seguono questo convegno, perciò tutte queste tematiche Green Event e queste cose possono dare un messaggio ulteriore al contenuto stesso del convegno e dare anche alle persone che vengono un messaggio che anche noi possiamo rivedere quanto in azienda facciamo ecosostenibile, facciamo come Green. Per esempio abbiamo ultimamente organizzato una conferenza con rappresentanti dell'azienda dove abbiamo veramente anche usato i criteri di un Green Event che abbiamo proprio anche messo in atto presso la riunione agenti. Proprio questi sono messaggi che secondo noi possono essere messi in atto subito. Perfetto, tu oggi hai parlato, hai trattato il tema della gestione dei conflitti. Rispetto a questo specifico tema, hai qualche suggerimento? Vuoi mettere in evidenza domande che ti sono state poste? Noi abbiamo discusso tanto, soprattutto abbiamo discusso sull'approccio sistemico come possiamo risolvere i conflitti, perciò spesso è più importante non vedere il conflitto stesso ma come e dove è nato e quali principi sistemici sono stati stravolti e che poi hanno comportato in conflitto. Perciò io dico che ogni conflitto ha una fonte e deve essere capito dove è la fonte e questo deve essere il messaggio. Perfetto, grazie. Alessandro Galardi, consulente di Corporate Social Responsibility. Stessa domanda, tu ti sei occupato oggi di risorse umane. Ecco, dal tuo punto di vista, appunto da osservatore esterno, qual è la tua percezione, l'applicabilità se sono emerse dei temi particolari, delle domande particolari anche nel corso del tuo intervento? Sì, oggi è stata una bella esperienza, ho avuto modo di conoscere questa realtà molto composita fatta di molte entità, di tante teste pensanti diversi. Quindi bello poter ascoltare e vivere questa esperienza ricca, no, proprio nella sua composizione. Il tema è interessante, è molto interessante, parlare in questo periodo di etica, di trasparenza, di bene comune in una situazione difficile che stiamo vivendo anche dal punto di vista economico potrebbe essere quasi fuorviante. Credo invece che sia un tema molto all'ordine del giorno, soprattutto, anzi credo che chi organizza eventi, una struttura come la vostra, un'organizzazione come la vostra, abbia veramente l'interesse, oserei dire, quasi il dovere di portare avanti questi argomenti per farli diventare patrimonio di tutti, patrimonio comune. Proprio perché l'osservatorio, il punto di vista di chi organizza eventi può avere un effetto propagatore verso tutta la realtà economica verso la quale si rivolge. Il tema delle risorse umane è stato interessante, ci siamo concentrati, ecco, e le domande che sono venute fuori hanno avuto a che fare su come ottimizzare le risorse umane, se vogliamo usare questo termine, su come porsi come leader e come fare in modo che le persone che lavorano con noi all'interno del nostro gruppo possano in qualche modo sentirsi soddisfatte del loro lavoro. Una persona soddisfatta è probabilmente una persona che anche dà il meglio di se stessa. Ecco, attorno a questi temi è girata oggi la nostra discussione. Ti ringrazio. Last but not least, Giorgio Di Tullio, antropologo lo voglio dire e progettista d'impresa. Tu hai trattato il tema della negoziazione, ecco, rispetto anche a quello che hanno detto i colleghi, qual è la tua impressione? Che cosa è emerso in questa giornata? Questo è un tipo di associazione nel cui persone anticipano i sistemi. chi opera in questo ambito è un costruttore di reti, di reti relazionali, organizza reti ed è un tema anticipatore di tutto quello che è e che sarà. Nell'ambito delle reti ci sono dei meccanismi, reti relazionali, intendo primariamente, non per forza reti internet, ci sono delle modalità che vanno rese trasparenti e a partire dalla trasparenza applicata a un prodotto o un servizio. Applicare trasparenza significa rendere chiaro tutto il processo e fare un percorso di progettazione collaborativa tra persone. A questo punto non c'è negoziazione, non c'è bisogno di negoziazione perché gli oggetti si creano insieme e quindi collaboratività, reti, comunità sono i termini tipici di questo mestiere ma che oggi trovano un rinnovamento molto forte e in qualche modo parlano già di futuro. Il problema è solo mentalizzarsi rispetto a questo e imparare che non abbiamo più da costruire degli oggetti da offrire ma abbiamo da costruire dei processi e dobbiamo farlo collaborativamente. Farlo collaborativamente è evidente che ognuna delle parti è cosciente di quello che si sta costruendo e quindi non c'è da negoziare, non c'è da confliggere, c'è dialogo. Il dialogo sostituisce assolutamente da un lato la comunicazione e dall'altro la persuasione, il dialogo in realtà la formula dei prossimi anni. Perfetto, io vi ringrazio e mi auguro che questo primo approccio con il nostro mondo possa anticipare ed essere antesignano di una continuità nel tempo e nel futuro. Grazie.